Il suono della palla riempie paracetti vuoli, la stagione più difficile delle nostre carriere, perché ci mancate. Ci alleniamo duro, con intensità, sacrificio, attenzione, ma quando arriva la partita è surreale senza di voi, che ci sostenete, ci supportate, ci criticate, ci spronate a non mollare nei momenti più difficili. Il vostro affetto è fondamentale per noi. Fate di tutto per dimostrarcelo. Possiamo dimostrarvi di apprezzarlo solo facendo vedere come giochiamo. Teniamo a dirvi che quest'anno voi salirete sul bus con noi in ogni trasferta, scenderete in campo con noi in ogni gara, esulterete con noi ad ogni canestro. Per il basco, per Torino. Questa è Torino.